Allora, volevamo giocare, ecco, ci sono dei jungler ma non jungler belli, cioè, quali tra questi jungler vorreste che io giocassi? Dai, abbiamo Atrox, Gnarr, Gragas, Kartus, Morgana, Niko, Sejuani, Shaco, Ione, quale di questi jungler vorreste vedere? Vorreste vedere Shaco? Ok, così una cosa ne pensi di Belvet? L'ho giocato abbastanza, quindi no. Allora, vediamo un po' se abbiamo, ecco, che ho detto che volevo giocare? Allora, vediamo gli altri jungler che non possiedo, non possiedo Udyr, non possiedo, comunque tutti i champions si possono giocare a jungler in realtà, basta prendere lo smite. Riven si potrebbe giocare già, Jarvan, Jarvan esplodi build, come lo vedete? Kha'Zix, Zed, mamma mia, ma quanti jungler esistono? Rengar, ma sono solo jungler i champion, ecco, Gnarr pure, forte, jungle, secondo me. Talia, Talia, è pieno di jungler, forse degli ultimi usciti no, questo 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 no. Beh, sì, se era finito di jungle abbiamo già giocata. Jarvan mi piace, Jarvan più di ecco, vogliamo provare? Vogliamo provare Jarvan? Jarvasio? Se no facciamo così, vaffanculo. Prendo un altro account e trovo dei jungler. Di nuovo jungle stasera? Sì, DJ Trip, ultimamente è sempre martedì e quando è martedì io gioco jungle. Cazzo, ragazzi, pentakill giocare da solo su pentakill è veramente strano. Cioè, non c'è gatto curame, ho perso la metà del mio potere. Ora c'è uno sponsor, punto esclamativo e lo fresh, ordinando col mio codice otterrete uno sconto di 65 euro sul vostro primo ordine. Anzi, sui vostri premiutri in realtà, però. Tre ordini sono praticamente un ordine solo. Allora, adesso ho tutti i champion improvvisamente. Cosa possiamo giocare? Abbiamo detto, io direi ecco, che è quello che abbiamo nominato. Siamo troppi a P però, così. Spendiamo una D. Gervasio IV, ci penserà lui. Poi abbiamo qualcuno che mi scrive in chat. Daie Cugino, premio centurione, grazie mille di questo Daie mi hai dato la carica. E adesso andiamo a sfruttarla subito con Gervasio IV. Buonasera numero uno, ciao DJ Trip, Alessio, buonasera anche a te. Con cosa ci gusta stasera, dottore, con la jungle? Perché oggi è martedì e il martedì si gioca jungle. Akali se non è jungle, Akali si potrebbe giocare. ZHP anche lui si potrebbe fare. Sera Cugino, ciao Logamer, ben arrivato, ti voglio bene. Come tu ieri sera. Quali sono i due lempi importanti al vincere che questa mi ha risposto? Comunque non ho capito cosa è successo prima dall'ave in chat. È stato un momento molto interessante. Cugino, che ne pensi di Akali in generale come champion? L'abbiamo risposto. Buonasera Cugino, sono mancato un po'. Ciao Tentici, poi invece ecco ti rivedo. Però tu tanto mi scrivi sempre su Instagram e io ti rispondo sempre molto volentieri. Lo sai, come a tutti quanti ragazzi. Buonasera Cerpe, ciao Fenix, buonasera a tutti. Cugino, cosa ne pensi di Akali? Ok, questo pure l'ho letto, ma quante volte l'avevi scritto? Porca puttana, sto recuperando un bel chat. Ok. E da! Attivissimo sto giardo, eh. Andiamo dai lupi. Comunque è davvero bello vedere quanto sei cresciuto grazie a tante Christian. Buonasera, lo spieghiamo per la penta. Ma in realtà neanche troppo, la penta l'abbiamo già fatta con sto champion. Cugino, se mentre ti guardo mi si bagna il pantalone, amore? Penso proprio di sì. Build per Chogat, abbiamo detto. Non ci spoileriamo il contenuto esatto. Ragazzi, io non proverò il nuovo champion finché non esce direttamente sul server live. Così lo giocherò per la prima volta, la prima sera e cercheremo subito di fare penta. Ora, piccola domanda. Il nuovo champion esce con la nuova season o prima? Questa è importante. Demacia! Ehi, 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 dove va quello senza HP? Quanti buff avveva? Ah! Non mi faccio perdere l'occasione! Quanti sub stanno arrivando? Aspettate un attimo, raga. Dovevi farlo prima che arrivi. Non so se ce la faccio, mi sa di no. Molto rischio questa cosa, eh. Fanculo! Ah, che palle. Vabbè, Facco, grazie mille del Prime, ben arrivato anche te per la prima volta sul canale. Grazie tante. E dopist page, grazie del sesto mese, benvenuto. Grazie, raga. Uffa, ho aiutato Nocturne a fare il suo campo, mannagina. Dovevo tenermi lo smite. E invece, non pensavo che avesse fatto, che non avesse fatto il blu, non l'avevo controllato. Mi ero distratto un po' too much. Gli abbiamo regalato tante cose a questo Nocturne. Ma ce la rifaremo, ce la rifaremo, ragazzi. Cazzo fai, sto coglione? È però così esageri, caro mio. Mo' mi riprendo ciò che è mio. Ciò, dammi tutto. Bravo, stronzo. Cosa cazzo fai? Vieni a rubare a casa dei ladri? Eh. Impari, impari. Ironia della vita. Muah. Dimmi un champ da giocare? Va bene, gioca. Ta un Kench. Grazie alla tua esplode build ho fatto la mia prima pentacon B. Grazie Kugi. Mamma mia, che roba. Questa è una roba veramente potente. Bravo Tenjip, sono fiero di te. V-E-O-P. Preferisci Ksante oppure Ksante oppure Ksante oppure Ksanto? Ragazzi, non mi piace proprio pronunciare sto nome. Non lo so. Qui è un po' sbucciato. Assolutamente no, polocianuro. Ho fatto quello che dovevo fare, cazzo. Ho visto che il mio nemico aveva usato tutto su di me. Benissimo, i miei cooldown sono più bassi dei suoi. Perfetto, ho aspettato. E ho attaccato al momento giusto. E poi, porca puttana, quel jungler mi doveva 500 bigliettoni, ovvero quelli del blue. Guardalo, guardalo, continua, deve arrivare qua da me. Quanto cazzo è broken sto champion? Cioè, un livello sotto di me, 2-2, però lui ha un fear. Stavolta ha sbucciato lui. Secondo me è come un monluso, Ksanta. Cugino come Merdinger esplode i build, ero 10-0 al minuto 6. Mamma mia, gli ingranaggi potentissimi. C'è tutti i ravi degli attacchi vasi e one-shotavi la gente. È questo che mi stai dicendo, Erbimo? È questo che mi stai dicendo? Dopo ti andrebbe Udyr? Non lo so, chiediamolo dopo, perché adesso non è dopo, e quindi non posso prevedere cosa mi andrà dopo. Ora mi deve più di 500 bigliettoni. Fate voi il prezzo, ragazzi. Chiediamo tanto a questo jungle, eh? Vai, Zesty, ora come rispondi? Ti sto dicendo che ho visto Katarina Mastery 7 un milione di punti sparire in meno di un secondo. Quindi la quantità di punti non determina le difese del nemico. Nonostante avesse un milione di punti, tu l'hai shottata lo stesso. Madonna che roba. Questa è una gran potenza. GG. Abbiamo scoperto una cosa nuova sull'oro. I punti non aumentano le difese. Ottima l'esplode i build. Ecco, vedete ragazzi, con l'esplode i build potete battere anche quelli con un milione di punti. Un nemico è stato ucciso. Doppia uccisione. Va bene, io faccio drago. Ci metteremo un po', quindi chattiamo. Incredibile, buonasera Cristo Santo. Raga, una cosa dovete capire comunque, se chiedete quali campioni sono forti e poi vi inventate che sono noiosi, c'è un problema. Cugino, se mentre ti guardo... Ok, questo l'avevo letto. Lasciò che alla prossima, non lo so, ci pensiamo. Buonasera, cugino e cugino. Ciao, Giannapple, come stai? Hai vinto, sei riuscito a vincere qualche partita con quella build Z. Benissimo. Abbiamo preso il drago dei tank. Che bello, ora non mi uccideranno più. Ciao, Silver. Ok, dai, cugino. Cosa ne pensi di Mike? Non lo so, non penso nulla. Non mi espongo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere a questa domanda. E a tutte quelle che mi fate. Oh, questa notte non continua a morire, eh. Ci prova, ma male. È ancora al 5. Mi sa che qualcuno qui sparirà il blu per stavolta davvero. O era stavolta per davvero. BOOM E stavolta ho lo smite. Anzi, lo aspetterò anche qui dentro una volta che... Sono due livelli sopra lui. L'attesa del piacere è essa stessa piacere. Oh no, come sta parlando con Trax? Ah no, Grax. Grax Gunner. Oh no, io, ah, grazie. È solo che c'è scritto Grax. Ma dove che cazzo è? Non c'è. Nocturne il sparito. È tutto top, ma non ha senso quello che sta facendo. Talmente insensato ad avermi fatto perdere tempo. Loro hanno Teemo support. Teemo tornerà in Botlin, no? Da Nocturne a Noncturne, esatto. Blank, 94X, anche tu sei riuscito a rifare la sub per il secondo mese. Grazie mille del tuo Prime. Bentornato in community. Pronti, ragazzi. Teemo, tecnica a muro. La tecnica del gank dal muro. Aspettiamo che passi più in qua. Perché la mia lancia arriva fino a qua. Oh. Addio Bono, ma qualcuno c'è? Gli spariti! Ma come ha fatto a passare? Da dove è passato? Ma come ha fatto? Si è materializzato qui. Lascio il mio stesso muro. Ma dove era? Ragazzi, dove era Teemo? Cioè, buh, qui era. Improvvisamente. C'è qualcosa che non funziona in questo gioco. Possibile il gioco stesso? Nuova scoperta, vai Cugino Rappi. Il gioco League of Legends non funzionava correttamente. La community è sterrifatta da questa notizia. Non era stato Torre Invisibile. L'avevo ucciso. Cioè, no. L'avevo ucciso la Bottling. Quindi doveva spawnare e tornare. Ma. Poi dopo la vediamo insieme in sta cosa, ragazzi. Che non ha senso. Ricordatemi di vedere il replay. Minuto 10 circa. FF da Inciatolle da parte di Merdinger. Molto bene. Bravo, Merdinger. Ti correggo, c'era qualcosa che non va in Teemo. Ah, ok. A posto. Vabbè, dato che i nemici sono imprevedibili, io sto perdendo un tempo a farmare delle cose. Riposeremo quando saremo. Eh, sì, di più. Io non l'ho usata la ulti su di te, però. Slowato. Oddio. Queste Merdinger non ha l'esplode build. Non ha shotato con un attacco base. Ma io da sub, dovrei avere tre biglietti? Dovresti. Non è detto che te li meriti. Salvate me invece di uccidere quella! Ok. Meno male mi sono salvato da solo perché ho la Drakhtar, quindi... Sono potentissimo. Via. Serie di uccisioni interrotta. Sì, fai punto schiamativo... No, non fare punto schiamativo. I vantaggi dei sub sono scritti sotto la live. Quindi immagino che tu le hai già letti, se mi fai questa domanda. Eh sì, c'è già tre biglietti. Proprio perché la sub. Ogni primo del mese facciamo l'estrazione e tutti i vostri biglietti vengono utilizzati. Chiap i biglietti. La più probabilità di... Uffa, io voglio uccidere le persone ma mi mettono i blind. Bello comunque il trinket rosso su Ash. Hai preso il muro fratelli! Ciao Raiden! Grazie mille anche a te dell'ottavo mese. Ma tutti otto mesi, però. Cosa succede qua? Sarà che forse mi avete scoperto otto mesi fa. E cosa stavo facendo otto mesi fa? Ma... Com'è possibile? Il mio lancio è stato più lungo del mio... Della mia colpo del drago. Mannaggia. E vabbè. L'ho già letto solo che non avevo visto il mio nome nel file del biglietti. Comunque grazie per l'informazione. Perfetto. Il tuo nome non l'hai visto perché giustamente viene aggiornato manualmente una volta a mese. Ma c'è scritto anche nel file dei biglietti questa cosa. E' strano che tu non l'abbia vista. Hai cercato il tuo nome e non hai visto le informazioni? Non hai letto per bene tutto, Tagliuz. Va bene. Sono a leggere ma solo a metà. Non lo so, magari non ci importava. Non c'è la grafica del road to gold. E' perché non è il road to gold questo? E' semplicemente io che volevo giocare a jungle. Perché il martedì gioco jungle. E dato che non sono nella... Anche questa ascia è potentissima. Ragazzi, non sono nell'account road to gold. Per un motivo. Vediamo se in chat sapete quale. Scommettiamo. Vediamo se lo sapete. Scommettiamo su tutto qui. Idrick lo saprà. Oh, è un campo più grande. Grazie. Ho bisogno di più soldi, infatti. Ah, da due kill a due sette, eh? Faceva tanto lo sborone sto stronzo. E adesso? Dai, dai. Ora... Eccolo qua, Timo. Scusa. Oh, ce l'hai fatta a passare qua, eh? Ma dov'è? La tecnica Viet Cong. Oh, no, 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 no. Chi è? Va bene. Ho fatto proprio quel suono. Lui ha detto, ma chi c'è qui dentro? Esatto, ragazzi. Perché non ho tutti i champion sull'altro. Di conseguenza, dato che sull'altro canto non ho tutti i champion, allora ho deciso di giocare questo. Così posso giocare anche i jungler che normalmente non ho. Poi, vabbè. E vi dico anche questo. Sarò a Lucca Comics sabato. Mi sembra che è il 29 ottobre. Sì. Quindi, se ci volete... Se mi volete beccare, ragazzi, potete scrivermi su Telegram o Instagram. Sarò anch'io, Lucca Comics, cugino. Facciamo una specie di mini raduno. E portiamo anche una bella torta. Mi piace come idea? Spero vi piaccia. Ma da che ora? Ma che ne so. Possiamo fare... Allora, io considerate questo. Non so a che ora sono impegnato quel giorno. Però... Potremmo... Potremmo beccarci il pomeriggio. Ok? Dopo pranzo. Perché è più facile. Sicuramente la mattina devo arrivare. Mi sveglio, vengo in macchina, trovo un parcheggio. Oppure, niente, lascio due chilometri di distanza, tre chilometri. Comunque... Da qualche parte si troverà un parcheggio. E... E niente. La giornata ci va è sabato, ragazzi. Lucca Comics, sabato. Anzi, me lo scrivete nel titolo mod? Il martedì gioco jungle, trattino... Sarò a Lucca Comics. Grazie. Finalmente ci incontreremo in parecchi. Finalmente. Chi di voi sarà Lucca Comics questo, appunto, sabato, 29 ottobre? O comunque sia in generale. Chi è a Lucca Comics di voi? Scrivete io, oppure sì, se ci siete. Scrivete no, oppure nulla, se non ci siete. Ok, ok, ragazzi. Il nostro Jarvan esplode i build e sta facendo esplodere tutto. Oh! La Nivi è stata penetrata. Sollevata e poi infilzata. Nooo, i Merdinger è triste. La sua prima morte. Vabbè, ragazzi. Jarvasio è molto forte. Zack. Mori. Grandi, ragazzi. Allora ci incontriamo anche Tenjip. Mamma mia, che bello. Ci incontriamo in tanti. Oh, oh. Ole! Si valla! E vai! Benissimo! Festa grande, io e i nemici. Ma se dormo che succede? Codice a barre, succede che domani editi questa live stessa. Perché questo video lo facciamo uscire direttamente domani, anche se salta tutti gli altri video. Così impari. Ecco. Quindi, ragazzi, se vedete questo video su YouTube, significa che il codice si è addormentato. Questo perché non abbiamo la grafica in alto a sinistra, tutto che non serve, di conseguenza. Easy. Battuto. Sorry, Garen, I don't have teleport. Cugini, ricordatevi di attivare la campanella. Oh, bravo, Erbimo, diglielo. La campanella per sapere quando. Come si fa ad attivare la campanella? Oh, bella domanda, tu che ci stavi pensando. Tutti parlano di sta cazzo di campanella, ma io non so come si attiva. E allora ci pensa il cugino a spiegare come si fa. Praticamente, adesso vi dico come si fa. Quando siete da PC sicuramente, non so se da cellulare, voi potete fare questa cosa. Andate sul canale, qualsiasi parte del canale. Qua c'è una campanella, vedete, di fianco è iscritto, abbonati. Quindi, cliccate e attivate tutte le notifiche. Così vi arriveranno le notifiche, guardate, tac, di quando escono i video. Esatto. Potete attivare anche voi la campanella facendo così. Perfetto. Tutorial al volo. Quali altri tutorial vorreste vedere? Ditemi un po'. Facciamo altri tutorial. Tutorial su come ammazzare Tryndamere che ti appena ha fottuto il blu. Grazie del blu. Sto aiutando, dice Jarvan. Jarvan ha aiutato. FF! E merdinger evil. Ricordare di come bello il succo. Ciao cugino, ciao YouTube, bella a tutti i ragazzi. Vedete like, commentate, haha. Evil binger. Va bene codice. Facciamo uscire questo video domani. E con domani intendo 20 ottobre 2022. Quindi, se state vedendo questo video il 20 ottobre 2022, sappiate che siete a un passo dal cugino. Perché, cioè, questo è proprio successo ieri. Cioè, immaginatevi che roba. Normalmente il canale Uncut è più indietro di un mesetto ultimamente. Però vabbè, questa cosa è successa ieri e è già uscita così, perché ci andava. Ah, salti temporali. Viaggiamo nel tempo, ragazzi. Più avanti capirete di che cosa parliamo. Ok. Proteggete i fedeli. Aha, imprigionate. Stronzi, guarda lì, in gabbia. Ha funzionato. Che bello. Oddio. Ha bisogno di uscire? Nessun problema. La fuga che abbia il cugino. Ah, che qualità. Grazie mille Rex, hai visto che qualità di azione? Molto potente, sa. Mi ha divertito molto farlo. Ok, ora prendiamo l'infinite. Oh, oh. Doppia uccisione. Comunque, quel treno il canale, ehi, ciao, troppo bello. Ogni volta che aprite il canale YouTube si sente, ehi, ciao. La tua squadra ha distrutto una torre. Eh, ti saluto che sei arrivato sul canale. Surrendiamo, ma certo. Come mai hanno messo a no? De Kairos, grazie mille del quinto mese. Oddio, dove sono i lupi? Sono dimenticati di spawnare. Eh, vabbè, andiamo dritto. Grazie mille de Kairos, bentornato anche te con i cinque mesi. Raiden, invece tu, otto mesi. Vabbè, questo avevamo visto anche prima. Oh, sei slowato. E mo? E mo si muore. Così. Aspetta, aspetta, ma muore anche lui? E là! No, 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 io no. Sì! Ammazzo tutti! Che bello! No? Penta. Ok. No. No. Nothing penta. Anivia mi ha shottato con un ghiacciolo Merdinger deve andare a nanna A sonno? Come si dice hai sonno in inglese? Are you drunk? Are you sleepy? Are you sleepy, Eimer? I mean, do you have to go Non so se dice così Vabbè vaffanculo, non lo so I want to go to bed Do you want to Came to bed with me, Eimer? Di rassure Chi è che rifiuterebbe di andare a letto con Jarvan? Yes, man Avete visto? Perfetto Visto? Non si può rifiutare Abbiamo conquistato anche loro Ogni giorno conquistiamo qualcuno Beh, dopo tutto abbiamo una bandiera Cioè la bandiera è proprio La mettiamo dove Nei posti che conquistiamo In questo caso abbiamo conquistato Merdinger E gli mettiamo una bella bandiera Aspetta un attimo Ok Ho finito il blind A posto Dovevo aspettare Insomma quei secondi Eh vabbè È così Da uccello volante a Spiacicata per terra Ma fa troppo ridere Jarvan raga Lo devo giocare più spesso Oh mamma mia Ehi da Buongiorno Dov'è dov'è? Eccolo qua È fortissimo Jarvan ragazzi Ma è una cosa nucleare No 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 La fenta cogliona Affanculo Ma perché? Perché avete fretta? La fretta build Ok su Ash Ma non così tanta fretta Cioè potevo fare fenta Aspettavi cinque secondi Non cambiava l'esito Della partita Che cazzo è? Devi andare a dormire È la pipì Ti scappa la cacca Vabbè Onoriamo Nilo Che adesso è mio Buonasera anche oggi è martedì? Assolutamente sì Angie Anche se il video esce Di giovedì Però Noi qui oggi È martedì Ok Wow These bitches Wear something else Molto bene Molto bene Nuova pietra miliare Fatto ragazzi Emerdinger Abbiamo fatto quasi Gli stessi identici danni Dieci danni meno di lui Ho fatto È lui il dominante Della coppia Ok Ho fatto bene A chiamarlo a letto Perfetto ragazzi Perfetto Dieci danni meno Del nostro Emer Quasi uguale Siamo quasi una coppia Cioè dieci danni in più E eravamo insieme Ora ti andrebbe un Udir Sì signori Uno due Uno due In tempo zero Uno due Uno due Uno due Sì signori Uno due Uno